Ciao a tutti ragazzi sono ND e bentornati su Car... Si, su Car Mechanic Simulator stavo dicendo ma in realtà stiamo su GTA Vice City GTA Vice City che... Ecco, ho spaccappolato un coso buffo Che dovevamo continuare qui con le missioni del nostro nuovissimo centro per video... Un po' sozzetti ma video Ora sicuramente dovrò censurare qualcosa Il... C'è C'è... 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 Qua dietro? Bene, perfetto Wow Abbiamo un aereo pronto al volo Ok Come faccio a tirarlo su? Non lo ricordo più E' Grazie a tutti. E non si tira su, regà. Non va su. Col tasterino non va su. Col tasterino non va su. Col tasterino non va su. Ok, ok. Fermi, fermi, fermi. Controller. Impostazionista. No, no, no. Standard. Ok, eccolo qua. Fuoco entra in macchina. Numero 4, 5, 9, 6. Numero 1, 2. Sguardo a sinistra, va bene, ok. Torretta, inclina su e giù. Sguardo torretta. Azione abbassa. Arma successiva. Arma non me ne fotte. Eh, che cacchio? Qua non c'è stato scritto, regà. Non c'è stato scritto. Alla fine, armada nazione. Combo sguardo a destra e sinistra. Torretta. Sguardo più torretta. Eh, solo questi ci stanno. Azione. Abbassarsi. Bersaglio. Scatto. Sono finiti qua. Sono finiti qua. Allora, torniamo un attimo indietro. No, è mouse. No, non mi interessa. Ok. Eh, niente. Proviamo con qualche altra cosa. Proviamo con qualche altra cosa. Eh, sì. E che cose, però? Ah, ok. Questo. È il tasto 6. Sì, ma non è che va a sud tanto, eh? Non è che va a sud molto. Scende subito perché c'ha... Ok. Eh, non so se sto andando bene, ma... Quanto pare sto volando. A quanto pare, eh. Ora sta a me vedere se riesco a tenerlo finché... Wow. Ok. Ora devo seguire solamente i punti. Ho capito bene? Ok, allora, con questo si scende e con quell'altro si sale. Eh, ho capito, però, raga. Eh, cioè, è difficilissimo. Oh! Vaffan cuccolo, vaffan cuccolo. Scendi, 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 scendi. Guardi, 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 boom. Allora, ragazzi, è abbastanza complicata come cosa, eh? Abbastanza complicata. Non è per niente, per niente facile. Ora cercherò... Eh, che cazzarola. Mo' mi sono incastrato. Io qui non so più dove cazzo, donna. Non so se è molto complicata o moltissimo complicato. Perché questo aereo qui non è che vada molto, molto bene, eh? Non è per niente, per niente... Comunque ci vediamo fra poco. Ok, ragazzi, ok. Missione completate. Ora, però, il problema è... Porca miseria, raga, non potete capire quanto ci ho messo. Una vita. Una fottutissima vita. Una fottutissima vita. Ok, adesso il problema è cercare di tornare al posto dove stavo prima, scusa. Ok, tornare qui, tornare qua, ho detto. Perché li vorrei di tornare là. No, 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 ecco, preferisco. Ok. Dovrebbe esplodere, in teoria. Ah, no, no, no. Non esplode. Bene, ragazzi. Bene. È una vita che sto qua davanti. Fate un po' voi. Porca vacca, raga, impressionante. Non si riesce, non si riesce. Allora, adesso io salvo la partita. Perché mi pare giusto Oh, porca di quella Che cacchio ho preso una buca Ho preso una buca Ho preso una buca, si è inclinata la vettura Bene Benissimo, no, perfetto Perfetto, guardate dove si è inclinata poi Ah, ok Ho tirato fuori dalla buca Bene, andiamo a vedere che altra missione ci dà E ci propone il tizio Ora che abbiamo distribuito i nostri bellissimi volantini Vediamo che ci dice Le foto di Marta La foto di Marta Che cacchio sono i ninfonvasori Sì, esatto Ok Stanno posizionando un po' troppo Un po' troppo Sì, 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 sì Bene Perfetto, perfetto Bene, benissimo Allora Allora, premi i pagi su, zeta O il volante su Per zoomare con la macchina fotogramma Salve Salve Prendiamo il mini elicottero Prendiamo il mini elicottero Forse la seguiamo meglio Candy con questo Sì, la seguiamo meglio Candy con questo Eccola là Ciao Candy 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 Ok Sta tamponando ovunque Però, va bene Signorena Candy Non è che deve tamponare dovertutto, eh Ha una zona dove Può camminare tranquilla O deve tamponare ovunque Benissimo Questa è casa mia L'ho appena acquistata Questa con la piscina qua sotto Benissimo Se mi dici, signorina Candy Dove sta andando Uno Te fa un attimo De... Eh? Che dici? Me lo dici dove stai andando? O no Non lo devo sapere No, giusto così, eh Per sapere La privacy dov'è? Eh, sì Scusi Ha ragione Signorina Candy ha ragione Però io devo fotografarla Fotografarla Fotofattafattarla Con un tizio In posizioni un po' estreme Ed è un po' lei Insomma Ah Si è messa a posto Si è seduta Perché lei va in giro con il costume? America poi Con un costume un po' americano Dove sta? Ehi Bella per te Perché cammini in piscina in quel modo? Perché te devi chiamare Marta? Oh mio Dio Allora Adesso Facciamo una cosa Ci andiamo a posizionare Lì davanti Ok Ci posizioniamo qua Scendiamo Una Due Tre Oh 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 Mi sta andando a seguire Mi sta andando a seguire Ma ho un elicottero Non potete neanche spararmi Però ho mezza polizia appresso Oh Mezza polizia appresso Oh Mezzo mondo appresso Porca caccia Eva Ho anche mia nonna appresso Perché quella si faceva chiamare Marta? Quello Oh my god Perché ti fai chiamare Marta? E hai un Una cazzo di Collant addosso Perché? Per quale fottuto motivo? Ops Ho un elicottero Ho un aereo qua sopra Oh Scendi 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 No 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 Corri 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 Wow Mamma mia Ce l'ho fatta Per un Pelissimo Fino 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 Per un Pelissimo Fino Fino Ok Ragazzi Ok Credo che noi ci vediamo In un prossimo episodio Guardate che bella Sta nave Parcheggiata così che sembra vera Noi ci vediamo in un prossimo episodio Come sempre non vi dico Guardate di iscrivervi Lascia un commentino Di iscrivervi alla pagina di Facebook Di pagina di Google Plus Come sempre I link sono tutti in descrizione Io intanto salvo la partita E noi ci vediamo In un prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti